Sicuro, sicuro, tutti i compartimenti in sicurezza. Bianco per verde! Bianco per verde! Tutti i portelli chiusi, capo, inversione! Aprile gli sfoghi delle casse Zavarra! Apro le valgone centri! Apro gli sfoghi daia centri! L'assetto avanti, l'assetto addietro, le casse compenso... Motore principale, ausiliari, ausiliari. Questo è in metri, è tutto in metri. Passate i 15 metri! Possiamo chiudere gli sfoghi d'aria! Potete chiudere, Wenz, è nel locale idrofoni, sentiamo che c'è là fuori! Sì, signore! Andiamo a 20 metri! 20 metri, ricevuto! Capo controlli la discesa! Controllo la discesa! Siamo a 20 metri! Timoni avanti a zero, controllo la quota con i timoni addietro! Timoni avanti a zero, controllo la quota con i timoni addietro! Oh, merda! Avanti tutta, signore! Le batterie sono al minimo e si stanno scaricando in fretta! Signor Tele, sento l'S33 che va in pezzi! Aspetti! Rilevo un U-Bot in immersione per 0-1-0! Molto vicino, meno di mille yardi! Sommarcibile del foccio! Trigger, qual è la nostra rotta? 2-8-0, signore! Bene, tutta la barra dritta, via per 0-1-0! Sì, signore, tutta la barra dritta, rotta 0-1-0! Ha ricevuto! Link, dritta, indietro, tutta! Rabbit, risposta! Dritta, indietro, tutta, ricevuto! Rabbit, trabordo! Sta' attento alla quota, si avpopperà! Rabbit! Abbiamo quattro pesci! Tu mi sono allagati, ma non posso aprire i portelli, ti ti ero compensato, non trovo la vabbola! Wentz, aiuta Rabbit! Insommergibile, l'enemico si è avvicinato! Siluri in arrivo! Siluri in arrivo! D'accordo, controordine, resta dove sei! Irce di gran carriera in camera di lancio! Timoniere, leggi prora di 10 in 10! Sì, signore! Prora 3-2-0! Vira, bimbo, vira! Vira! Valvole di compenso! Quali sono? Lo Cristo salto è un casino! Non riesco a compensare i dubbi! Che ti serve? Valvole di compenso! Valvole! Valvole di compenso! Miroscopi! No! Esaurimento! Valvole di esaurimento! No! Signore, prora 0-0-0! Oh, che ti bastardo morti! Capò! Punto ad allagare la cassa a setto avanti! Il pulso! No! Diferenziale! Valvole di diferenziale! Sì, quella! La giri! La giri! Ma che parte a sinistra? Sì! Intento antioraio! Il siluro ci ha mancato nel settore sordo! Abbiamo altri due siluri in arrivo! Rilevamento un voto! 0-1-0! Allora, Rabbit, pronto a mangiare i pesci! Dubbi uno e due a via il giroscopi! Fuori! Rabbit, fuori! Che succede? Nel stato! Lancio pallito! I siluri sono dentro! Ci sarà un dispositivo di blocco! Non lo so! Dai, Rabbit! Fa uscire quei siluri prima che esplodano! Chiedi lancio ad aria! Ho il punto di pressione! Sì, c'è scritto in punto! L'alena! Uno o due partiti per fare i dubbi! 3 e 4! 3 e 4! Fuori! Fuori! Tutti i pesci corrono regolarmente! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Credo che l'abbiamo mancato! Sì! L'U-Bot è distrutto! Sento le paradie che vanno in pezzi!